Ci eravamo lasciati qualche giorno fa con questo grafico esattamente alla fine di marzo il quale insisteva nella zona di avidità, di estrema avidità per quanto concerne l'andamento del mercato azionario in particolar modo i nostri studi in questo video come spesso capita saranno concentrati sull'economia e sui mercati finanziari statunitensi Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale Quindi siamo passati in un paio di settimane invece alla paura È bastato abbastanza poco, sta cambiando un po' la percezione in questi giorni Cercheremo ora di capire cosa sta accadendo Soprattutto voglio con voi studiare la parte economica degli Stati Uniti d'America e poi comunque anche i discorsi in Europa sono estremamente validi quelli che vi vado a portare perché vi sono tante dinamiche in comune Anzi, solitamente qui in Europa ciò che vi è dall'altra parte di negativo tendiamo magari ad averlo e invece mancano situazioni positive a volte di crescita, di resilienza perché si vada a parlare di discorsi ad esempio di deficit o di debito rispetto al PIL non è che qui in Italia ce la passiamo tanto alla grande Quindi detto ciò voglio mostrarvi un cambiamento di paradigma in atto o meglio il ritorno a quello che stava accadendo nel 2023 e quindi in realtà l'anomalia a questo punto incredibilmente è stata soltanto l'ultimo trimestre dello scorso anno I nostri ragionamenti li porteremo avanti per andare a fare non delle previsioni ma per portare delle possibilità forse esageratamente negative su quello che potrebbe accadere all'economia perché io credo che se non cambia l'ambiente d'assi di interesse ed è difficile cambiarlo in questo momento l'economia andrà in grande sofferenza perché c'è una cosa di cui in pochi parlano ecco perché secondo me bisogna esaminare tanto questa situazione l'economia attuale quindi qui in Europa, nel mondo occidentale, negli Stati Uniti d'America eccetera è stata costruita su 10-15 anni con i tassi a zero quindi si è totalmente edificata su questo principio e ciò è veramente eclatante e quindi se l'ambiente cambia così drasticamente gli effetti prima o poi dovranno manifestarsi guardate qui l'obbligazionario come stia crescendo c'è Jimmy Diamond che ovviamente ha insistito sembrava aver avuto torto non sappiamo ancora se avrà ragione ma lui vedeva nei prossimi mesi barra anni dei rendimenti obbligazionali sui treasury superiori rispetto al record raggiunto negli ultimi anni perché è chiaro se parliamo di anni 70 il rendimento al 5% ci sembra misero ma se ragioniamo sugli ultimi 20 anni un 5% di rendimento toccato lo scorso anno è stato veramente un valore importante considerevole immagina che questi valori possono essere superati quindi molti parlano di un 6% c'è addirittura chi vede i rendimenti obbligazionali all'8% o più e il problema è che non è detto questa è la visione quella pessimistica no? non mi dite fra qualche mese è sbagliato o non è sbagliato è soltanto un gioco che stiamo facendo è soltanto un chiederci va bene cosa può accadere anzi va male cosa può accadere qual è uno scenario non da cigno nero ma quasi da cigno grigio cioè cosa potrebbe andare veramente storto e sorprenderci il fatto ad esempio ora ci arriviamo che magari pur andando a tagliare i tassi i rendimenti obbligazionali possono continuare a correre verso l'alto e quello sarebbe uno scenario terrificante ma procediamo un po' alla volta USA inflation quindi un altro problema che vedono i mercati è questa dell'inflazione che ha smesso di decrescere sta addirittura rimbalzando si mantiene appiccicosa come si suol dire e ci sono dei costi al rialzo segnalati nel mondo delle case e anche del carburante è vero che qui un indicatore uno studio indipendente true inflation rate ci indica un'inflazione in tempo reale al 2% dichiarando che ovviamente come spesso vi racconto anch'io i dati ufficiali governativi siano tardivi siano sempre un po' la copia l'immagine di quello che accadeva qualche mese fa non del tempo presente procedendo ancora in avanti qui insistono gli articoli sulle difficoltà dei mercati in queste giornate perché molto spaventati da questo tema dell'inflazione siccome si mantiene alta i rendimenti stanno aumentando si teme anche che gli ufficiali della Fed che comunque coloro che hanno in mano questa situazione e la possibilità di prendere decisioni rimandino i tagli dei tassi e ricordiamoci che la grande corsa del mercato azionario è stata sovralimentata ovviamente da questa considerazione cioè il mercato ha fatto festa ha cominciato a correre quando si è convinto che quest'anno avrebbe assistito a dei tagli dei tassi ma se questo non accadesse sarebbe un grandissimo problema ora i funzionari della Fed hanno cercato di portare la tranquillità ovvero di non scaldare gli animi di non suonare diciamo allarmi circa il panico e prevedono comunque un taglio qui da qui a fine anno che dettagli vengono applicati ci sono delle considerazioni ulteriori da fare perché abbiamo visto l'economia americana forte quindi stiamo parlando di tanti temi poi arriverò alla fine sembra non so quanto logico sembra questo filo conduttore se c'è stiamo vedendo tante considerazioni insieme per arrivare poi a un punto finale quindi un pezzettino alla volta e poi il puzzle piano piano prende forma dunque un altro problema che sto notando è ad esempio quello di costi a cui gli americani sono sensibili che aumentano una dismisura quindi è vero che l'economia è forte è vero che gli stipendi sono aumentati ma poi questi rischiano di venire in ogni caso depauperati nel loro possibilità di raggiungere un potere d'acquisto importante da alcuni costi in particolar modo qui si parla dei proprietari di case e ce ne sono tanti americani hanno scommesso sulle case soprattutto negli ultimi anni in cui sono stati stimolati con demuti convenienti a tassi bassi a comprare e investire nel mercato immobiliare tant'è che molti hanno parlato addirittura di bolle immobiliare bene negli ultimi due anni qui si sono aumentati del 63% i costi assicurativi sono aumentati quindi i premi sono aumentate le tasse sulle case sono aumentati i costi di mantenimento voi immaginate tutte le materie prime che sono aumentate l'inflazione la mano d'opera e tutto quanto insomma i costi sono aumentati considerevolmente io adesso voglio spostarmi su un tema abbastanza caro agli studiosi e anche a coloro che fanno un po' di allarmismo a volte giustificato a volte un po' meno però questa è una domanda che tutti quanti noi ci poniamo ovvero quella del deficit quella del debito degli Stati Uniti d'America e gli stessi discorsi li facciamo ad esempio anche per altre nazioni c'è chi si concentra sulla Cina con Italia giustamente ci concentriamo su noi stessi ora rimaniamo ancorati agli Stati Uniti d'America i quali non avevano le brutte abitudini che già altre nazioni avevano assunto ovvero quella di operare con un deficit che va fuori controllo e soprattutto innalzare drasticamente il debito in rapporto al GDP e invece ormai lo stanno facendo guardate fra il 74 e il 2023 il deficit in media era un meno 3.7 nell'epoca attuale stiamo piangiando a meno 6 quasi tutti quanti gli anni cioè il 2023 è così il 2024 dovrebbe essere un po' meno a meno 5.6 2025 meno 6.1 dovremmo arrivare al 2034 con meno 6.1 quindi meno 6 sta diventando la normalità spostiamoci quindi su queste voci davvero importanti per farvi capire un po' la gravità della situazione per quanto riguarda le entrate ad esempio nel 2023 sono entrate tramite le tasse perché poi le entrate dello Stato ragazzi sono le tasse essenzialmente circa 4.439 trilioni di dollari 4439 miliardi di dollari ma ne sono usciti 6.123 quest'anno dovremmo arrivare a 4935 di entrate ma un'uscita di 6.517 e via via con questo trend e con quelle che sono le aspettative anche di deficit arriveremo qui fra qualche anno fra una decina d'anni del 2034 a poter vedere un qualcosa che assomiglierà a 7.474 milioni di entrate ma a uscite superiori ai 10.000 cioè usciranno 10 triliardi di dollari all'anno e quindi qui il deficit aumenterà sempre di più cioè già adesso abbiamo raggiunto 1.6 trilioni di dollari di deficit annui potrebbero aumentare sempre di più e arrivare al 2034 a 2.5 all'anno ma aver già accumulato di debito 48 triliardi di dollari ed è veramente sensazionale è un debito che si mangia ormai nella sua totalità e addirittura il GDP il PIL ogni anno che gli Stati Uniti riescono a produrre ma finché il deficit finché i debiti si fanno con degli interessi bassi diciamo il gioco può rimanere sostenibile ma nel momento in cui ecco quella è la gravità della situazione bisogna emettere dei treasury che paghino degli interessi elevati ecco quello è il problema di queste obbligazioni che arrivano sempre di più e quelli poi sono i interessi con cui gli Stati Uniti in America firmano fra chi comunque presta i soldi è loro che prendono questo debito in mano e quindi finanziarsi in un ambiente a tassi zero con obbligazioni che magari rendono 0.5 rendono un 1% è un conto farlo adesso al 4 al 5% un altro voi immaginatevi se dovessero pagare il 6 il 7 l'8% perché se l'ambiente arriva lì io metto obbligazioni voglio fare deficit così sennò chi me le dà i soldi ma mi impegno a pagare un 8% di interesse ed è una cosa che va scongiurata ma già i livelli attuali sono davvero insostenibili sono bravosi si vede qui dalle uscite perché uno può andare a vedere ok da dove vengono le entrate essenzialmente dalle tasse individuali da quelle delle aziende poi abbiamo tutte quante le uscite finché le uscite sono per il social security per il medicare tutte quante quelle obbligatorie ovviamente per reggere la macchina dello stato della governativa e della nazione e va bene non conto per la difesa va bene ma guardate qui net interest cioè questa è una voce che sta crescendo e crescerà sempre di più e a dismisura tanto è vero che questo deficit che è possibile come target nel 2034 cioè andare in deficit ogni anno di 2.5 trilioni di dollari ecco grandissima parte di questo deficit non dico tutto ma grandissima parte ben oltre il 50% sarà zavorrato soltanto dalla voce interessi netti quindi si rischia di vivere deficit pesantissimi anche in punti percentuali rispetto al PIL soltanto per gli interessi da pagare per tutte quante quelle che sono state le obbligazioni emesse ecco perché interessi così elevati nel medio lungo termine se non si abbassano potrebbero essere un problema veramente importante elevato e io ora arrivo qua al dunque guardate dal 2009 fino alla fine del 2000 fino diciamo alla metà del 2022 qual è stato l'ambiente dei tassi ragazzi l'ambiente dei tassi di interesse è stato prossimo allo zero in America quanto diciamo qui in Europa salvo poi alcuni anni un po' differenti eccetera lo zero più lo zero e meno ma possiamo diciamo generalizzare semplificare dicendo così avvicinandosi terribilmente alla realtà che qui in Europa come ad esempio nell'ambiente dell'Unione Europea e come ad esempio negli Stati Uniti dell'America tutta l'economia familiare governativa statale pubblica quindi e anche tutta la sfera privata le aziende le compagnie le società tutti quanti noi abbiamo costruito le nostre vite e la nostra economia su tassi pari a zero cioè riuscendo a prendere prestiti e mutui e ottenendo finanziamenti senza pagarci sopra gli interessi o comunque pagando degli interessi così bassi da essere poco impattanti tutto quanto questo cosa ha comportato ragazzi ha comportato che tutti spendessero spandessero i propri business addirittura ha comportato il sostentamento di aziende di attività di iniziative che intrinsecamente sarebbero fallimentari o poco remunerative è normale ho bisogno di soldi vai vado lì mi riprendo a prestito chi se ne importa soprattutto negli Stati Uniti d'America perché se vi vede lì o vedete parenti lì o se ci siete stati o se vi informate è molto più facile ottenere lì dei finanziamenti dei prestiti rispetto ad esempio qua a quello che succede in Italia è davvero facile aprire ho una casa a linea di credito sì 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 ma anche gigantesca capite bene qual è il fatto e poi quindi si spende si spande e così via ecco adesso i venti sono contrari quindi come si suol dire i nodi vengono al pettine ed è difficile che un'economia riesca a rimanere in galla a lungo se è stata edificata sul concetto dei tassi a zero perché poi cambia tutto e all'improvviso gli interessi per i governi vanno fuori controllo i privati si trovano in difficoltà i mutui diventano pesantissimi ma le aziende nate e cresciute con linee di credito a interessi bassissimi ora si trovano interessi a 3 a 4 a 5 al 6 al 7 all'8 poi dipende dall'ambiente ma sono queste anche molto di più e il mercato attualmente non sta ancora scontando queste dinamiche cioè il mercato immobiliare non sta scontando ancora dei mutui così elevati tassi così importanti e così tante altre sfere dell'economia tante altre comparti dell'economia ma poi se i tassi permangono così alti accadrà qualcosa di brutto capite qual è la problematica l'ulteriore problematica di cui nessuno parla io non sto dicendo attenzione che questo accadrà e non voglio fare allarmismo mi voglio solo chiedere hai visto mai che andiamo a vivere e mi auguro proprio di no perché mi ero anche posizionato a livello di investimenti per non vivere questo quindi il mio prezzo di diversificazione prevede anche l'obbligazionario e ovviamente mi serve che queste obbligazioni non rendano sempre di più perché laddove rendessero sempre di più ragazzi cosa mi accadrebbe innanzitutto l'azionario crollerebbe perché vuol dire che c'è qualcosa che non va e poi io stesso se mi trovassi e avessi della disponibilità mi trovassi dei treasury che rendono l'8% penso me li compierei e metterei in quel momento anche da parte l'azionario o comunque se sta crollando si un po' lo miglierei ma mi concentrerai tanto sui treasury insomma non sarebbe così sostenuto il mercato azionario in quello scenario direbbe davvero poco attrattivo ma ricordiamoci che è vero che vi è una forte correlazione fra rendimento obbligazionario e ovviamente ambiente tassi di interesse quindi se in Europa i tassi stanno a un livello possiamo attenderci più o meno un rendimento dei paesi europei a un certo livello così come per gli Stati Uniti d'America ma vi ricordate ad esempio perché è più questo problema è più evidente in Europa siccome siamo delle nazioni diverse non è che siamo stati federali di una grande nazione no siamo delle nazioni differenti anche a parità ovviamente di una banca centrale comune che ha dei tassi per dire a 0.5 a 0 o a 1 abbiamo sempre notato come il rendimento delle obbligazioni italiane o tedesche o francesi o spagnole orlandesi e così via fossero diversi e come mai perché poi vi è il rischio specifico del paese cioè la percezione che hanno gli investitori di una nazione allora se la percezione comincia a diventare negativa nei confronti degli Stati Uniti d'America o se il mercato si convince che l'inflazione rimanga alta possa aumentare o stia aumentando in un ambiente del genere magari in cui però l'economia va in difficoltà e la Fed vuole accontentare l'economia stessa per aiutarla o per aiutare i mercati a un certo punto tagliasse i tassi ma questo non fosse sufficiente quindi la percezione nei confronti dei Stati Uniti d'America fosse negativa in quel momento e l'inflazione continuasse senza essere perso l'alto potremmo addirittura vivere quello scenario davvero brutto in cui vengono tagliati i tassi noi ci aspettiamo un calo del rendimento obbligazionario e un innalzamento del valore delle quotazioni obbligazionari e invece accade il contrario assurdo ma vero continuano a salire i rendimenti obbligazionari continuano a scendere il valore delle obbligazioni stesse sarebbe uno scelto veramente brutto e da scongiurare però volevo ovviamente parlarne con voi quindi è difficile in questo momento per la banca centrale muoversi questo è ovvio perché lo sanno che l'ambiente attuale con dei tassi così alti non è sostenibile per il lungo termine per tutti quanti i discorsi che vi ho fatto perché hanno cresciuto un bambino abituato ed educato a vivere in un certo ambiente e questo gli dà tanto fastidio l'ambiente tassi a zero non è più così ed è difficile quindi abituarlo a un'altra condizione anche perché è una questione proprio tecnica non è una questione solo comportamentale ed emotiva e allo stesso tempo se si tagliano i tassi però permangono tante complicazioni a livello globale sempre si aggiunge un'ennesima guerra conflitto bellico abbiamo vissuto la pandemia vi hanno state delle manovre veramente forti a sostegno dell'economia quindi sono creati tanti squilibri tante situazioni che hanno alimentato l'inflazione ecco se questa continuasse ad essere alimentata da ambienti proprio anche esterni alle politiche della Fed e la Fed tagliasse i tassi allora a quel punto l'inflazione li potrebbe esplodere verso l'alto e quello è il problema quindi è un momento davvero davvero delicato e io mi auguro che non ci sia questo scenario però mi sono chiesto mi sono domandato quale potrebbe essere uno scenario davvero brutto e se ci siano le possibilità ecco non le escludo totalmente e quello potrebbe potrebbe accadere poi non immagino che permanga così ovviamente in maniera permanente però dico diamine hai visto un manco che non mi debba preparare purtroppo ad avere ancora un portafoglio che pur diversificato non riesca a vivere la decorrelazione ma tutto rimanga correlato purtroppo come abbiamo visto gli ultimi 3-4 anni se le cose andassero male sarebbe sarebbe così ragazzi quindi insomma cerchiamo di sperare che venga scungiato tutto quanto questo e io mi auguro anche che il mondo si dia una calmata perché tutti quanti questi conflitti sicuramente non aiutano e poi ovviamente non c'è solo il lato economico ma c'è soprattutto il lato umano e poi quello bellico è un virus che si può espandere e poi potrebbe facciamogli scongiuri contagiare anche noi ovviamente le persone gli uomini potenti non imparano mai la storia non imparano mai le lezioni del passato eppure noi umani avremo questo grandissimo vantaggio di poter fare nostra l'esperienza altrui nostra l'esperienza di chi ci ha preceduto e quindi poi abbiamo visto come tutto quanto si è degenerato nella prima metà del novecento e io spero che non abbiano questa volontà perché non vedo dei potenti così illuminati ecco da ogni parte in gioco quindi senza fare il giochino degli schieramenti io non vedo menti illuminate da nessuna parte ma non voglio andare off topic anche perché qui parliamo di economia investimenti non parliamo di altro ragazzi ma poi è chiaro che delle connessioni e delle influenze reciproche ci stanno con la politica la geopolitica e tante altre situazioni va bene ragazzi volevo soltanto un po' chiacchierare così insieme a voi non so se siete arrivati fino alla fine non so quanto io sia stato lineare nel mio ragionamento perché era un po' un flusso di pensieri anche se avevo delle schede aperte fatemelo sapere voi nei commenti insomma se sono risultato sufficientemente logico nella mia esposizione senza essermi perso io vi auguro il meglio nella vita negli investimenti sono curioso di sentire la vostra nei commenti vi do appuntamento a prestissimo magari con dei contenuti un po' più positivi speriamo ciao ragazzi grazie a tutti